Ora si registrerà la conferenza. Ok, buon pomeriggio a tutti, bentrovati in questo venerdì per Pasquale. Bene, dove ci troviamo? Ci troviamo in Officina Liberty, anche se virtualmente, in un webinar organizzato con il patrocinio del comune di Gardone-Valtrompia, insieme ad altri webinar che sono già stati organizzati e che verranno organizzati nelle prossime settimane. L'organizzazione di questo webinar è fatto da Officina Liberty che parte del CSMT, gestito dal CSMT, adesso andremo nel dettaglio, e gli altri webinar di cui vedremo nelle prossime settimane, viene nomino uno su tutti, il 23, affronteremo un argomento della blockchain con un taglio un attimino più pratico, cioè non parleremo di che cos'è la blockchain, che cos'è la criptografia, eccetera, sui principi su cui si basa, ma avremo delle aziende che effettivamente utilizzano soluzioni basate sulla blockchain e quindi condivideranno le loro esperienze, i loro know-how, eventualmente i prodotti che loro hanno a disposizione con tutti quelli che vorranno essere con noi. Quindi, di nuovo prima di iniziare, un ringraziamento ovviamente ai relatori di quest'oggi e di nuovo al comune di Gardone-Valtrompia che è promotore di questa iniziativa insieme al CSMT. Officina Liberty è uno spazio di proprietà del comune di Gardone-Valtrompia, gestito dal CSMT, il Centro di Trasferimento Tecnologico di Brescia. All'interno di Officina Liberty ci sono diverse aziende e associazioni che hanno partecipato e che la animano. Qui vedete una rapida preview di tutte le aziende che collaborano all'interno dell'Officina. Di che cosa si tratta? L'Officina è uno spazio fisico, non è soltanto uno spazio web come purtroppo la situazione ci costringe a vedere. Abbiamo qui giusto alcune immagini per far capire che l'Officina effettivamente vive ed è presente. Cosa abbiamo all'interno dell'Officina Liberty? Uno spazio condiviso di lavoro in cui si possono accedere agli spazi stessi con postazioni di lavoro e per condividere dei corsi veri e propri, della formazione aziendale. Qual è il target di Officina Liberty? Lì vogliamo sviluppare degli argomenti specifici che sono quelli che vedete qui lencati, quindi tutto ciò che riguarda blockchain, criptografia e il mondo della cyber security. Sviluppare argomenti relativi all'intelligenza artificiale e la industrial IoT e argomenti di economia circolare o green technology, diciamolo in questa maniera. Quindi cosa vuol dire? Insieme alle aziende partner che hanno tutta esperienza in uno o più di questi campi e insieme all'Università degli Studi di Brescia che ha evidentemente competenze trasversali a questi campi, andiamo a veicolare le conoscenze e le richieste, le conoscenze di questi partner verso le aziende che vogliono partecipare all'Officina Liberty o tutto il territorio che ne fa parte. Quindi trasferiamo le conoscenze e il know-how di queste entità, di queste aziende verso le aziende che ne hanno bisogno. Può esserci anche lo scambio nella direzione opposta, cioè un'azienda che ha necessità e che vorrebbe sviluppare un particolare argomento, capire se qualcosa può essere affrontato, come può essere sviluppato, se è applicabile, può trovare qui le competenze, le persone e il know-how per poter sviluppare e capire se un'idea è effettivamente applicabile o no. Questo spazio di Officina Liberty è gestito, come dicevo precedentemente, dal CSMT. Il CSMT è un polo tecnologico che fisicamente è all'interno dell'area dell'Università degli Studi di Brescia, per quanti di voi lo conoscono. Polo tecnologico perché all'interno del CSMT ci sono una ventina di aziende che ne fanno parte di questo polo e il CSMT si occupa di diversi argomenti e offre diversi servizi alle aziende del territorio bresciano principalmente. Anzitutto l'innovazione digitale, quindi sviluppo di proof of concept, argomenti relativi all'industria IoT, industria 4.0 e quindi consulenza e supporto alle aziende che vogliono sviluppare degli argomenti specifici. Green technology, quindi tutte quelle attività che sono relative al trattamento dei materiali, rilevazione di agenti patogeni, economia circolare, quindi riutilizzo e rivalorizzazione di scorie, principalmente la produzione siderurgica. Abbiamo ovviamente un know-how abbastanza profondo e verticale sulla pressofusione e quindi avremo anche a settembre l'avvio di una scuola di pressocolata specifica su questo argomento, che è un percorso piuttosto lungo che si articola in un annetto. Avremo l'avvio di un master di formazione per i manager in max, manager per l'eccellenza e su tutto questo abbiamo anche, diciamo trasversalmente, sempre come servizio alle aziende, un'attività di project funding. Cioè noi siamo a disposizione per le aziende per fare progetti di ricerca e di innovazione tecnologica e anche, quando è possibile, ritrovare sostegno finanziario a questi progetti di innovazione, siano esso sostegno finanziario a livello regionale, nazionale o europeo. Oggi di cosa parleremo e perché siamo qui? Il tema di oggi è smart working e digitalizzazione dei processi. Vorrei porre l'accento sulla parte di digitalizzazione dei processi. Quindi parleremo sì di che cosa si intende per smart working e che non è la stessa cosa del teleravoro e che vantaggi ha come precipito e anche delle tecnologie che si sono a disposizione. Però non vogliamo focalizzarci sul fatto che un prodotto, software o hardware sia meglio di un altro. Vorremmo sottolineare come lo smart working, per essere tale, ha bisogno di un'organizzazione dei processi che si trovino pronti poi a poter effettuare lo smart working. In questo momento quello che noi riteniamo è che viviamo in un sistema assolutamente interconnesso, nel senso che ciò che accade dall'altra parte del mondo ci influenza in maniera imprevedibile. Nel senso che noi sappiamo in questo momento qual è la situazione, ma chi avrebbe mai previsto di trovarsi in questa situazione due mesi fa? Si spavamo che c'era qualcosa dall'altra parte del mondo in Cina, ma non eravamo pronti al 100%. Lo stesso, altri esempi, ci sono un problema che può capitare dall'altra parte del mondo in Giappone, come per esempio era stato il problema Fukushima, ha bloccato una città, nella città c'era un impianto di produzione di un particolare additivo per le vernici dell'automotive, e questo ha influenzato la produzione degli automotive in Europa, perché non potevano realizzare alcuni colori che erano parte del loro catalogo. Quindi il fatto che un qualcosa dall'altra parte del mondo ci possa colpire da un momento all'altro è una cosa di cui noi dobbiamo abituarci a convivere. Quindi dobbiamo cercare di adeguare i processi aziendali per essere pronti a queste evenienze, perché le evenienze purtroppo non le possiamo prevedere con sicurezza. La nostra idea, e quindi quello che vorremmo discutere oggi e sottolineare oggi, è come dobbiamo essere pronti per reagire in maniera più smart a questo tipo di problematiche che possono accadere. Oggi chi ci accompagnerà in questa visione dello smart working e la digitalizzazione dei processi sono Stefano Bodini, che fa parte di Fasternet. Fasternet è un'azienda brisciana, che fa parte del network di imprese di Yobo come Gulliver, sono partner di Officine Liberty. Stefano Bodini ricopre il ruolo di direttore operativo e Fasternet è un'azienda che, per coloro che non la conoscessero, offre servizi di connettività per le aziende, infrastrutture di rete e mille altre cose che si inizia ad elencarle e sicuramente mi dimenticherebbe qualcosa. Giuseppe Capoferri è il CEO di Gulliver. Gulliver è un'azienda che dal 2000, mi pare, lavora sulle applicazioni mobile, soluzioni mobile, e quindi ci spiegherà come lo smartphone è uno strumento che abbiamo sempre in tasca e può esserci utile in questa situazione. Adesso lascerò la parola prima a Stefano e poi a Giuseppe. Ricordo che avete sempre a disposizione la chat per poter fare delle domande in qualsiasi momento, che poi avremo degli spazi per avviare la discussione. Ricordo un'altra cosa, sempre in chat noi metteremo alla fine del webinar un link per un questionario nel quale vi chiederemo di esprimere il vostro punto di vista sull'esperienza del webinar, eccetera. Lo manderemo anche in mail, quindi vi chiediamo la cortesia se potete dedicarci un minuto per darci un feedback su quanto abbiamo affrontato oggi. Quindi ringrazio ancora CSMT e Comune di Cardone e Valtrompia per aver organizzato questo webinar. Adesso interromperò per qualche secondo la registrazione e darò la possibilità di fare relatore a Stefano in modo che lui possa condividere il suo desktop. Stefano dovreste avere la possibilità di condividere, perfetto. Ci siamo? Ci siamo a posto? Assolutamente sì. Spero di non averlo a tutti. Buona giornata a tutti. Grazie Gabriele della presentazione. Premetto subito che mi sarebbe piaciuto essere presente fisicamente in officina Liberty se non altro perché è collocata vicino alle montagne che in queste giornate splendide mi mancano tantissimo così come se ho intuito bene chi sia Roberto Parolari che ha visto partecipare penso che anche lui mancheranno molto le montagne specialmente in queste giornate di sole ma siamo qui a confrontarci con una realtà cruda decisamente provante sotto tutti i punti di vista e quindi a riscoprire perché noi spesso facciamo così noi siamo coloro che faticano magari a progettare, a ipotizzare ma quando poi si trovano in difficoltà si adeguano e imparano la svelta quelli che sono i vantaggi del cosiddetto smart working quindi cominciamo subito a dipanare il dubbio ma l'ha già anticipato Gabriele smart working non è un modo più simpatico e orientato al marketing di chiamare il lavoro da casa anche se ovviamente l'accesso da remoto alle proprie attività lavorative è parte integrante dello smart working ma per capire meglio cosa sia chiediamo agli esperti gli esperti in questo caso sono i signori del Politecnico di Milano che da tempo hanno attivato degli osservatori quindi hanno creato dei team di persone competenti sotto tutti i punti di vista che analizzano di fatto quello che sta accadendo nel mercato dal punto di vista di alcuni trend particolari il cloud, gli applicativi cloud lo smart working tra questi e fanno delle analisi interessanti che ovviamente corroborono di dati altrettanto interessanti il resoconto di fine 2019 è quello che vedete voi in questa slide quindi 570.000 persone sono già interessate nel senso che già praticano lo smart working una grande azienda su due lo attua già in maniera precisa nelle pubbliche amministrazioni ci sono dei progetti in corso nel 16% dei casi con un raddoppio di questo numero nelle PMI il numero di progetti è lievemente aumentato ma un dato abbastanza sorprendente da un lato ma neanche troppo dall'altro poi mi spiegherò meglio dichiara che il numero di aziende piccole e medie imprese che si dichiarano completamente disinteressate agli aspetti di smart working è del 50% quali sarebbero i vantaggi introdotti da un corretto smart working sentendo sia le aziende che lo hanno adottato sia le persone che lo praticano dal vivo sono quelli che vedete qui quindi sicuramente l'azienda cerca un miglioramento nel rapporto tra la vita lavorativa e la vita privata cosa interessantissima capacità di attrarre talenti quindi i veri talenti noi parliamo tanto spesso e volentieri di fuga dei cervelli ma i veri talenti vengono attratti da una modalità di lavoro che è più innovativa quale lo smart working si propone di essere poi c'è benessere organizzativo e la produttività ovviamente perché non va dimenticato il punto chiave se è vero che lo smart working cerca di concedere al lavoratore flessibilità e autonomia dall'altro pretende che questi sia più coinvolto a livello di risultato quindi ci deve essere un aumento della produttività lo smart working lato suo dice che è molto più soddisfatto della sua professione i due valori in percentuale che vedete sono smart working cioè smart worker a sinistra lavoratore diciamo normale a destra si sentono più coinvolti sono soddisfatti maggiormente dell'organizzazione e addirittura hanno rapporti migliori con i colleghi superiori il capo team il team leader dell'osservatorio del Politecnico di Milano alla fine del suo resoconto annuale esprime questa frase questo sentiment che sostanzialmente vuol dire che lo smart working si propone alla fine di ingaggiare completamente la persona quindi il lavoratore diventa parte integrante a tal punto dell'azienda che ne diventa compartecipe di problematiche e di obiettivi quindi quello che tante volte si è raccontato di riuscire a coinvolgere le persone che lavorano con noi al punto tale che si sentono partecipi dell'azienda di fatto può essere ottenuto anche attraverso una corretta pratica dello smart working perché lo smart working non è solo telelavoro quindi lavoro da casa perché la complicazione dello smart working ruota su almeno 5 pilastri che sono quelli che vi ho raccolto qui tenete presente che la parola smart spesso volentieri abusata che si può tradurre anche con agile alla fine lo smart working non è altro che come spesso accade un momento in cui si concentrano vari trend che nel tempo ci sono rincorsi o sono andati in parallelo quale per esempio i metodi che noi diciamo agile perché vado in modo all'inglese però la parola agile è sempre quella quindi modo agile di affrontare i lavori modo agile di sviluppare il software il pensiero lean è arrivato a questo punto ma anche i suggerimenti dell'ESO 9001 alla fine arrivano in questo punto quando si parla di ottimizzazione dei processi eliminazione degli sprechi sono tutti tasselli di un percorso che nel tempo noi abbiamo fatto per giungere a questo punto quindi se volete smart working dal mio punto di vista è un po' la sintesi di una serie di trend che ci hanno condotti in questo momento ad avere tanti strumenti a disposizione per affrontare meglio anche una situazione complicata come la pandemia che stiamo vivendo policy regolamentazione ovviamente sì è chiaro quando si parla di lavoro non si può prescindere da una regolamentazione a livello normativo però voi sapete che la legge 81 nel 2017 parla esattamente di lavoro agile e ne detta in maniera chiara anche se non dettagliata i presupposti chiave che sono quelli che vi dicevo prima quindi dona, lascia pure che il tuo dipendente il tuo collaboratore goda di una certa libertà e flessibilità nell'interpretazione del suo lavoro ma porti a casa in maniera efficace gli obiettivi che gli hai assegnato in estrema sintesi luoghi e modi perché se è vero che improvvisamente mi rendo conto che non è importante il dove lavoro ma il cosa faccio e come lo faccio il luogo diventa un aspetto non più predominante ma assolutamente non secondario qui potrei citarvi ovviamente per ogni pilastro qui potremmo parlare giornate intere chiaramente devo stare su un minimo di sintesi ma se avete sentito parlare di activity based workplace voi sapete che i nuovi trend cercate su internet per esempio Copernico ha fatto una serie di progetti in questa direzione i luoghi potrebbero essere dimensionati e creati luoghi lavorativi per adeguarsi alla tipologia di lavoro quindi non ho più il mio posto di lavoro costituito dalla mia scrivania ma a seconda di cosa devo fare se devo concentrarmi se devo collaborare se devo comunicare o se devo creare posso avere dei luoghi dedicati costruiti con un certo appeal particolare leadership e controllo è un altro aspetto molto interessante lo vedremo più avanti è chiaro che i vecchi modi di interpretare l'azienda in cui c'è una verticalità di comando di controllo in cui sostanzialmente il capo il capo di un team arriva al mattino distribuisce i lavori e verifica che siano fatti è chiaro che in questi contesti salta completamente sia perché la pandemia potrebbe avermi tolto il capo che mi dice cosa devo fare sia perché in questo modo io ho tanti colli di bottiglia ho tanti punti critici che sono le persone da cui tutto il lavoro dipende quindi già identificare queste sarebbe una cosa interessante e poi veniamo ai due aspetti che sono fortemente collegati secondo me che sono i processi aziendali e gli strumenti tecnologici che non possono più essere visti come separati ma dovranno essere correlati e dovranno essere fortemente compenetrati argomenti che già abbiamo sentito discutere quando da due anni in questa parte si parla di digital transformation se però arriviamo a definire che comunque il lavoro da casa o da fuori dalla sede tradizionale è un tassello fondamentale sostanzialmente chiunque si deve porre queste quattro domande allora primo sembra banale ma non lo è mi fido dalle persone che lavorano in un ambiente al di fuori della mia sede operativa normale cioè io mi fido dei miei collaboratori al punto tale che affidandogli un compito io sarei sicuro che questi lo portano a compimento anche se non li vedo fisicamente cioè voi capite che qui sotto ci sono degli aspetti anche culturali abbastanza fondamentali e radicati che devono essere rivisti per poter portare a casa un concetto diciamo più innovativo di smart working secondo domanda ma il nostro lavoro può essere svolto in maniera remota spesso e volentieri su questa domanda la metà di quelle famose PMI che nella prima slide hanno detto di dichiararsi disinteressati hanno risposto no il nostro lavoro non può essere svolto in maniera remota e secondo me qui si si perde un'occasione terzo ma effettivamente tutte le persone che io ho a disposizione possono comportarsi in questo modo cioè è vero perché voi sapete meglio di me che più di una persona è stata dichiarata dal punto di vista psicologico o meno un esecutivo quindi sono quelle persone che si comportano in maniera perfetta purché gli si dica cosa devono fare quindi se tu li lasci al di fuori di un contesto di operatività e contiguità di operazioni da fare queste persone si trovano a disagio e quindi non tutte potrebbero affrontare lo smart working quarto l'aspetto che è quello più evidente abbiamo la tecnologia e l'infrastruttura che ci permetta di supportare il lavoro del remoto mi sentite? sì assolutamente perfetto Stefano mi approfitto anche per farti una domanda così interrompo un attimo vediamo perfetto a tutti i punti che hai elencato adesso e all'eserfatorio del Politecnico la vostra esperienza visto che voi siete in prima linea parola che adesso va di moda quindi l'ho usata in maniera impropria ma rispetto a queste attività cioè nel vostro quotidiano con le aziende bresciane con le aziende con cui lavorate voi come vedete questi aspetti? allora ti dirò che facciamo finta di essere una seconda linea perché in effetti è una terza linea quindi la logistica ha supporto effettivamente in queste quattro settimane noi abbiamo quasi esclusivamente lavorato per abilitare le aziende a lavorare da remoto quindi potrei dirti l'interpretazione che se ne è fatta finora è esattamente poter lavorare da remoto quindi non posso andare in azienda devo stare altrove mettimi in condizioni di lavorare ma ti dirò anche che sono abbastanza personalmente soddisfatto perché salvo qualche raro caso abbastanza perdonatemi il termine paleolitico poi vedremo cosa intendo per paleolitico la maggior parte dell'azienda ha dovuto incrementare quello che già faceva quindi parlando per esempio di eccessi remoti era il lavoro precedente alla pandemia era di 3-4 persone adesso sono dovuti saltare a 20-25-30-50 quindi è stato un incremento di possibilità rispetto però a un qualcosa che era già stato pensato e quindi da questo punto di vista direi che non siamo messi male anzi probabilmente il fatto di introdurre con i discorsi che dicevo prima di digital transformation ma anche di industria 4.0 che ha puntato l'accento su questi argomenti secondo me è stata una cosa buona quindi più di un'azienda si è trovata in condizioni di poter operare dall'oggi al domani peraltro su queste tecnologie spero di averti risposto ottimo grazie mille sì sì ricordo ne approfitto per ricordare anche a tutti i partecipanti che se vogliono fare domande in qualsiasi momento possono usare la chat e poi le veicoliamo perfetto prego allora partiamo allora dal punto chiave quindi uno potrebbe dire in i bodini tanti bei discorsi però veniamo al sodo allora il primo punto da affrontare se vogliamo arrivare al sodo è il potere accedere da remoto al mio sistema informatico in maniera io dico assolutamente sicura tanti dicono possibilmente sicura mi rendo conto che spesso volentieri la sicurezza in questi momenti può sembrare un di cui secondo noi la sicurezza dovrebbe essere una commodity cioè dovrebbe essere implicita se è vero che abbiamo accolto quello che il GDPR chiama security by design deve essere implicita nella soluzione che andiamo ad adottare anche perché sarebbe interessante non morire di problematiche di sicurezza dopo aver schivato la pandemia quindi che cosa si può fare allora supponendo come suggeriva l'immagine di Pocanzi che uno da remoto quindi da casa sua ovviamente si suppone che sia l'azienda sia il dipendente siano dotati di un accesso a internet con un minimo di prestazione le cose che si possono fare sono tante e complesse al loro interno vedrò di riuscire a esprimermi in maniera non troppo tecnica e non troppo banale vediamo se ci riesco allora se io devo accedere a un servizio che ho nell'azienda cui normalmente accedo stando alla mia postazione nel mio pc adesso io voglio fare la stessa cosa stando al pc che ho a casa mia che può essere il mio pc personale o che può essere il pc aziendale che io mi porto a casa in queste condizioni perché mi è concesso di farlo ogni frase ogni mia frase nasconderebbe sotto tutta una serie di implicazioni di sicurezza abbastanza complicato da esprimersi in questi in questi posti poco tempo però cercherò di essere comunque preciso allora la prima cosa la cosa più facile che posso fare è cercare di prolungare all'esterno quel filo protocollare che in azienda oltre alla mia postazione di lavoro è il server il server dove per esempio è allocato il gestionale oppure il file server dove ho tutti i disegni oppure il CAD dove ho i disegni tecnici e via discorrendo o il database dove ho tutti i dati della gestione dei clienti per fare questo io potrei prendere il firewall che sicuramente ho in azienda che mi protegge dall'accesso all'internet e esporre su questo firewall gli indirizzi dei server interni in modo tale che io dall'esterno li possa raggiungere con gli stessi densiti protocolli con cui raggiungerei se fossi all'interno per chi è un po' più tecnico per esempio in RDP sessione di desktop premoto che è incluso in tutti i sistemi operativi Windows e affiliati quindi da un lato sotto la colonna con la spunta verde facilissimo velocissimo non costa nulla il dipendente l'operatore esterno ha la stessa percezione rispetto a quella che avrebbe stando in azienda e quindi non cambia la sua modalità lavorativa è esattamente identica io sto battendo una tastiera vedo il monitor esattamente come lo vedrei se fossi in azienda ma quel fatto di poter esporre verso l'esterno il protocollo mi crea un buco di sicurezza che è abbastanza complicato da gestire anche perché non potendo esporre per indirizzi più precisi perché il mio lavoratore potrebbe essere ovunque devo aprirlo e quindi potenzialmente metto alla berlina tra virgolette del mondo internet i miei server interni quindi funziona sì pericoloso tantissimo allora cosa posso fare l'ho citato perché qualcuno ce l'ha chiesto ovviamente il paleolitico di cui parlavo prima è un caso del genere il secondo passo che si può fare è sfruttare i famosi software che condividono l'esperienza della tastiera del monitor i famosi per chi per chi li conosce teamviewer anydesk o similari questi strumenti che cosa fanno evitano il punto che ho espresso poc'anzi di andare ad esporre direttamente il server ma fanno in modo che il server lato suo vada in un sito internet corrispondente allo strumento che ho scelto di utilizzare a casa faccio la stessa cosa tramite una password il sito quindi il cloud che ha accettato le due connessioni separate fa un vincolo tra le due e io mi trovo ad avere possesso del desktop del server remoto o del pc in azienda chiaramente questa esperienza è migliore della precedente è veloce perché spesso volentieri questi software sono gratuiti mantengo la stessa modalità operativa e quindi non cambio la modalità di lavoro della persona che se ne sta a casa ma in questo preciso istante io mi sto fidando completamente dello strumento quindi io non so nel cloud il signor teamviewer cosa fa dalle mie connessioni peraltro queste due connessioni sono state agganciate tramite una password anche questa password potrebbe essere indovinata da un ipotetico intrusore che volesse andare a prendere il possesso del mio server terzo cosa più complicata è che essendo necessario lato server un punto da prodo quel famoso clientino che apre la connessione col cloud può essere sempre attiva altrimenti dovrei andare in azienda a spegnere andare in azienda a ripartire andare in azienda a spegnere quindi si toglie un po' lo scopo il lasciare questa porta aperta ha delle implicazioni di sicurezza ci torneremo più tardi queste due queste due interpretazioni sono quelle più veloci spesso volentieri le si vede richieste forse perché sono le due a costo zero perché già dalla terza quindi con l'applicazione in reverse proxy qui cominciamo a pensare a un qualcosa di più serio quindi non sto affrontando il problema oggi perché è successo ieri sto affrontando il problema da tempo quindi mi sono preparato per tempo e ho costruito la mia infrastruttura di rete in modo tale che ci sia un apparato dedicato che sulla frontiera di internet accetti le mie connessioni dall'esterno le verifichi le controlli e le passi al server in modo tale da tra virgolette proteggere l'applicazione quindi non espongo il server direttamente come ho fatto nei due casi precedenti ma espongo l'applicazione quindi un'applicazione web oppure un'applicazione crm e così via qui il pro è molto più sicura la user experience si mantiene sicura il contro è prima di tutto devo comprare questa appliance quindi devo spendere dei soldi devo ragionare devo quindi ingaggiare delle risorse sistemistiche e posso incorrere nel problema che il server mio magari è troppo vecchio e quindi quella particolare applicazione non sia suscettibile di questo trattamento quindi avrei un'eccezione da verificare il quarto caso che è diciamo il più completo è quello in cui invece io l'appliance che metto all'esterno non va a toccare l'applicazione ma si preoccupa semplicemente di autenticare me quindi io dipendente mi loggo a questo concentratore faccio le cosiddette VPN quindi virtual private network il traffico che passa tra me e questo apparato è criptato quindi non è intellegibile da un ente esterno nel preciso stante in cui approdo un'azienda devo autenticarmi con username e password e solo dopo posso accedere ai miei servizi interni che se io ho un sistema per esempio di attic directory sanno anche distinguere che io sono Stefano e posso accedere per esempio alla cartella dei file tecnici ma non a quella delle offerte commerciali e via discorrendo quindi diciamo il tutto nella massima sicurezza rispetto alle policy che già ci sono questa cosa che potrebbe avere ancora un problema di sicurezza potrebbe essere accresciuta dalla famosa autenticazione a doppia chiave quindi nel preciso istante in cui io mi collego con la VPN al concentratore in azienda parte un secondo controllo che mi manda un messaggino per esempio sul mio smartphone verificato il quale e solo dopo io posso accedere alla rete aziendale quindi con una sicurezza diciamo paragonabile all'home banking bancario di oggi fermo restando che la sicurezza totale non esisterà mai diciamo che questo potrebbe essere uno standard decisamente interessante qual è la differenza che vedete tra l'ultima e la prima di queste soluzioni che l'ultima va pensata va architettata progettata messa in pista le persone vanno addestrate affinché funzioni e quindi bisogna pensarci per tempo quello di cui vi parlavo prima quindi il il lavoro che da noi è stato fatto in queste ultime settimane ha riguardato proprio questo quarto aspetto quindi aziende che hanno già ragionato in quest'ottica e avevano semplicemente bisogno di ampliare il parco di utenze che potevano accedere dall'esterno Stefano scusami se ti interrompo ci sono un paio di domande che sono proprio inerenti e molto tecniche su quella slide non so se le affronterai dopo però te le butto lì in questo momento poi vedi se le affronti dopo una è riguardo all'RDP nel caso in cui avessi un indirizzo fisso il livello di sicurezza cambia e in che modo questa è posta da Ivan dopodiché Paolo te le dico entrambe perché sono entrambe tecniche una domanda molto tecnica su Citrix Xenap che io non conosco però con Netscaler dove si pone come livello di resilienza secondo te ok allora sì posso rispondere brevemente adesso poi nel caso non soddisfacessi la domanda ne possiamo riprendere allora l'indirizzo fisso per forza ci vuole nel senso che se io da casa mia voglio accedere a un server l'indirizzo fisso cui devo accedere ce l'ho per forza il problema dell'indirizzo fisso e quindi è quello che dicevo prima esporre il server vuol dire pigliare il firewall e dirgli chiedergli di fingere verso l'esterno un indirizzo diciamo simile ad internet rispetto al suo interno il problema non è tanto l'indirizzo fisso che abbia delle questioni di sicurezza in più in meno il problema è che il protocollo RDP è intrinsecamente debole se voi cercate su internet bug RDP trovate pagine e pagine che vi dicono attenzione perché se non patchate correttamente il bug tal dei tali di Windows perché ovviamente il sistema può essere bypassato cioè se io davanti se io sono un esterno uno qualunque che non c'entra nulla con l'azienda trovo questo indirizzo capisco che è un RDP perché faccio lo span delle porte e riesco a capire cosa c'è accedo alla mascherina della sessione remota e bypass completamente perché c'è un bug che è stato dichiarato la finestra di autenticazione e mi trovo sul server aziendale senza che lui si accorga di nulla e io non sono dell'azienda quindi pericolosissima quella cosa a prescindere indirizzi fissi è insicura perché accedo direttamente al server senza nessun contesto di mezzo nell'altro caso invece sì la soluzione Citrix la soluzione Netscaler è sicuramente migliore però ha migliore di RDP ovviamente però si pone nel diciamo nelle condizioni ottimali per poter avere accesso comunque a una sessione remota del server cosa che secondo me è meno sicura intrinsecamente che non accedere alla rete e dopo essere soggetto alle restrizioni della policy per esempio di active directory non so se sono riuscito a spiegarmi so che sono entrato un po' nel tecnicismo però purtroppo la domanda lo ha richiesto era difficile non entrarci era necessario proseguo un attimo anche perché vedo che sto penso di stare sforando Giuseppe non ne può più della mia lo quella di oggi cerco di andare veloce allora rispondiamo alla domanda di quella slide di prima la numero due abbiamo un lavoro che possa essere svolto da remoto e il problema è questo se è vero che noi impariamo quando c'è qualcosa di critico se vi ricordate dopo l'episodio delle torri gemelle abbiamo imparato la business continuity e il disaster recovery cioè cosa succede se ci abbattono la sede operativa adesso dovremmo imparare cosa succede se ci abbattono le persone che lavorano che è un problema diverso da quello di prima quindi se prima bastava che io replicassi bastava tra virgolette ovviamente che io replicassi un sistema informatico da un'altra parte con problemi di allineamento con problemi di backup con problemi eccetera eccetera adesso io non posso backupare le persone all'oggi al domani se queste non sono state abituate a farlo quindi io dovrei traslare da un concetto di sinistra quindi verticalità architetturale con una tassonomia dall'azienda fatta a capo sottoposto capo sottoposto sottosquadra intermedia così via a un contesto come quello di destra in cui alla fine i responsabili sono coloro che procurano delle liste di task da fare possibilmente granulari e queste task vengono svolte con criteri di priorità che io posso anche delegare so che sembra complicato ma funziona in questo modo se c'è il cosiddetto domain expert che perde la sua fisica possibilità di andare a lavorare perché è stato colpito dal virus io ho un giro alternativo che comunque mi consente di portare a casa al lavoro cioè quante volte nei nostri processi operativi c'è la persona chiave senza la quale non funziona nulla perché sa lui il famoso sa tutto lui chiedete a Paolo perché sa tutto lui benissimo dal punto di vista anzi merito di Paolo senz'altro per amore del cielo ma se Paolo si ammala potrebbe essere un problema se io comincio a rileggere in quest'ottica i miei processi operativi probabilmente potrò predispormi meglio allo smart working e qui poi Giuseppe vi potrà raccontare di ogni ma è chiaro che a questo punto anche gli applicativi informatici devono seguire quel guizzo che ho avuto nello slide precedente quindi non posso più basarmi sugli strumenti tradizionali di office la mail la chat interna è chiaro che io dovrò uscire da un contesto e andare a sposare degli strumenti che sono magari disponibili già da tempo ma non li ho mai considerati perché? perché non ne avevo bisogno quindi viene prima il bisogno o viene prima lo strumento ci sono varie scuole di pensiero però in questo caso gli strumenti ce ne sono e ce ne sono tanti e sono già tutti disponibili si tratta di ripensare un attimo come posso utilizzarli quindi se io improvvisamente pensate per esempio alle scuole pensate a quant'altra realtà hanno dovuto improvvisamente trovarsi a fare cose a distanza la banalità la banalità di una scuola che per poter mettere in pista una formazione a distanza deve distinguere quale delle piattaforme disponibili corrisponda ai criteri per esempio di privacy o di security di cui necessitano le scuole è una cosa che non puoi risolvere dall'oggi al domani io ho l'esperienza diretta perché mia moglie è insegnante se uno si arrangia corre il rischio di intraprendere la strada sbagliata quindi molto bene dal punto di vista dell'iniziativa molto male dal punto di vista della complicazione normativa quindi quanti e quali strumenti ci sono il cloud cosa ci mette a disposizione lo smartphone poi ripeto Giuseppe vi racconterà mirabili su queste cose che improvvisamente diventano strumento voi scoprirete per esempio che ci sono una serie di nostri collaboratori che apparentemente quando si tratta di affrontare un programma su un pc sono inabili ma quando giocano con lo smartphone sono delle persone fantastiche e perché non proviamo a mescolare due cose e perché a quella persona non si può chiedere di unire le sue due anime quella di ricercatore da smartphone da un lato invece è quella di operatore esecutivo dall'altro questi potrebbero essere tutti spunti da raccogliere per affrontare bene lo smart working e quindi qual è lo strumento migliore ma non ci sarà mai lo strumento migliore c'è sempre uno strumento che si adegua o si adatta meglio alle esigenze che io ho e devo soddisfare ci sono strumenti di calendario e pianificazione ce ne sono a migliaia il problema è sapere cosa posso fare come posso gestirlo ma soprattutto quella ux che vedete a destra che è una cosa fondamentale aveva tenuta in conto assolutamente in conto che è la user experience cioè nel preciso istante in cui uno strumento è evidentemente poco efficace perché è poco intuitivo ripeto tutti quanti abbiamo lo smartphone e tutti quanti tutti nessuno escluso sa che cosa vuol dire user experience che cosa vuol dire cliccare su un'icona che cosa vuol dire giocare a spostare un monitor con un dito quindi se noi gli proponiamo delle cose che sono antiquate questa questa nuova modalità rischia di franare e di fallire già in partenza oppure peggio ancora se noi andiamo a prendere gli strumenti ma li utilizziamo con il modo vecchio di lavorare facciamo un danno ancora più grosso perché andiamo a introdurre un qualcosa di nuovo incomprensibile in un contesto vecchio quindi si sente il famoso abbiamo sempre fatto così perché mi fai fare in un altro modo che è un'altra delle frasi tipiche che sentiamo spesso volentieri ma banalmente i problemi di dico questo perché spesso volentieri le caratteristiche di uno strumento sono o non sono soggette a licenza quindi la parte gratuita è quella che ci invoglia a utilizzarlo la parte che ci serve è di solito quella che poi devo pagare quindi si tratta di capire da che parte stare quindi se io ho bisogno di uno strumento che mi faccia fare formazione potrebbe non essere necessario come abbiamo fatto noi oggi avere tutta la parte video a corredo quindi mi basta di vedere o sentire il relatore e io posso interagire con lui banalmente con una chat se mi bastano questi requisiti e lo strumento è free da questo punto di vista viva ben venga se invece io necessito di uno strumento diciamo più formale perché devo fare delle conferenze di tipo executive tra i direttori generali è chiaro che non posso utilizzare uno strumento limitato dovrò averne uno che ha per esempio la condivisione di una lavagna la condivisione di documenti senza limitazione sui documenti perché altrimenti cominciamo col pdf sì ma il jpeg no ma quindi altra serie di problemi che i poveri IT manager si devono trovare ad affrontare ogni giorno e via discorrendo altra cosa interessante che vi vado a citare di cui si è parlato tantissimo nel dieci anni fa ma poi sembrava scomparsa è la unify communication e la presence se noi pensiamo sempre perché vogliamo rispondere alla domanda ma il mio lavoro è remotizzabile riesco io a remotizzare il mio posto operatore la signorina della reception che risponde al telefono semplicemente va a casa riesce a fare il suo mestiere se io ho uno strumento del genere sì perché perché la chiamata arriva in azienda ma il terminale anziché essere in azienda è remotizzato risponde comunque all'interno e la signorina vedendo la disponibilità delle persone dei semplici semaforini su una console software le fanno permettere di inoltrare la chiamata al direttore al capo sala al settore al caporeparto e così via quindi tutti strumenti pensati per essere sfruttati in momenti come questi come vi dicevo prima lo smart working alla fine è un bellissima piazza place della concorda dove arrivano tanti bellissimi viali che ci siamo costruiti nel tempo ed è in questa piazza che adesso noi dobbiamo metterli insieme per fare qualcosa di veramente interessante ultimo veramente poi mi taccio e lascio la parola a Giuseppe gli aspetti di sicurezza che fino adesso abbiamo trattato poco ma che in realtà sono abbastanza complessi perché e qui mi rifaccio a Dark Trace che ha fatto questi 5 punti di attenzione allora proprio in momenti di forte complicazione dell'attimo quindi gente che va gente che viene che si sposta quindi processi che si devono adattare adeguare è facilissimo per un attento hacker bravo magari in social engineering fare la telefonata o la mail dicendo ah sono Mauro mi sono dimenticato la password in azienda mi puoi dire per favore la password ecco questi aspetti che normalmente ci hanno insegnato a gestire perché sono possibili e quindi sono sospetti di intromissione all'esterno potrebbero scapparci perché siamo in un momento abbastanza complicato in un momento di agitazione questi aspetti potrebbero scapparci e quindi essere i punti di debolezza della nostra azienda oppure ancora mi sono fidato di uno strumento e questo strumento è sotto attacco hacker provate a chiedere quelli che hanno fatto la domanda all'Inps quindi a parte il fatto che credo poco all'attacco hacker all'Inps credo di più a un problema di sottodimensionamento dell'infrastruttura però è chiaro che se io mi fido molto di una piattaforma cloud e questa viene attaccata per qualche motivo improvvisamente tutta la mia fiducia e la mia operatività viene a mancare di colpo indebolimento dell'infrastruttura per emergenza quello che vi dicevo prima cioè non posso accedere da remoto chiedo all'IT manager aprimi le sessioni RDP dall'esterno e questo poveraccio lo fa perché è un'alternativa e quindi alla fine io abilito sì i dipendenti dall'esterno ma in realtà sto creando un collaborodo dal punto di vista la sicurezza per la mia azienda appena prima la pandemia un paio di nostri clienti hanno avuto dei problemi per non sto a citarvi la motivazione tecnica e vi assicuro che essere bloccati sul serve dei disegni tecnici per loro è stato il blocco di una settimana quindi se io scampo la pandemia ma poi sto fermo una settimana con l'impossibilità di recuperare i miei disegni tecnici probabilmente sono messo peggio le soluzioni creative che sono quelle delle persone non addette ai lavori che però avendo imparato a casa perché a casa si imparano queste cose poi magari non si attuano in azienda ma a casa si imparano tutte vedendo che c'è un problema lo bypassano quindi mettimi tutto su Dropbox mettimi tutto su proviamo a farlo con Web App proviamo a farlo con Whatsapp Web quindi tutte cose che magari sono passano all'oscuro del controllo dell'IT manager e rischiano anche in questo caso di compromettere la sicurezza della nostra azienda da ultimo avete visto in questi giorni in televisione passano dei video fantastici in cui in una riunione per esempio come quella che stiamo facendo adesso tu purtroppo stai convivendo con la tua realtà domestica e quindi può succedere di tutto alle tue spalle dal punto di vista diciamo così della simpatia dell'imbarazzo del momento ma di fatto io a un pc del genere potrei dimenticarmi per esempio di bloccare lo schermo quando mi alzo perché sono a casa mia potrebbe arrivare la mia bimba piccola e battere l'enter su una mail che io stavo scrivendo ma stavo pensando veramente se mandarla o no e quella mail parte oppure qualcuno che scrive perché sto facendo uno scherzo e mi fa partire un messaggio rispetto a una persona che devo contattare per non arrivare al caso estremo in cui ho il vicino di casa che mi vede in giardino casualmente il vicino di casa è amico di un parente che è un concorrente e mi ha beccato a parlare con il cliente critico quindi è improvvisamente incappato in una conversazione critica e questa cosa è una falla di sicurezza quindi diciamo che per concludere argomentazioni ce ne sono tante l'importante è che questa pandemia triste che speriamo finisca presto alla fine ci lasci veramente un qualcosa di utile per poter lavorare meglio nel futuro grazie a tutti e scusate se sono stato decisamente lungo grazie Stefano è stato decisamente interessante non vedo in questo momento delle domande in chat quindi se sei d'accordo io lascerei direttamente la parola a Giuseppe io mi ok quindi attivo a Giuseppe la possibilità di fare il relatore ecco buongiorno a tutti quanto tempo ho Gabriele? allora cinque e mezza noi pensavamo di concludere ma perché sarebbe durato un'ora e mezza dipende dipende quanto riesci ad essere interessante potresti durare anche per delle ore per quanto mi riguarda quindi vai pure secondo me l'argomento terrà tutti interessati per esempio perfetto cerco abbastanza veloce per cui magari dando spazio un po' le domande innanzitutto parto da una provocazione più smart working con lo smartphone ed è un punto di domanda io sono l'amministratore delegato e due parole di una società bresciana che collabora con la rete Iobo facciamo applicazioni mobile cioè applicazioni per i telefoni cellulari progetti mobile da sé sono circa 20 anni che siamo sul mercato e lo funzionale non solamente a livello nazionale prima oggi ho avuto la fortuna di fare una bella chiacchierata utilizzando questo interno di uno stato estero perché stiamo correndo per fare un'applicazione tra chi ha letto un italiano un francese un tedesco a fare questa gara e portarla a casa sarebbe un'emozione molto grande per noi e per la stessa riprendo alcuni concetti che Stefano ha già in modo più approfondito toccato cioè il fatto di lavorare in modalità smart working quando è una scelta soprattutto spontanea spesso va a bilanciare con positività l'equilibrio fra vita per private vita professionale è una cosa che piace spesso c'è anche più produttività ci sono però dall'altra parte come sottolineava Stefano alcune cose da andare a gestire quali le urgenze la tecnologia la pianificazione delle attività un fatto che degli ambienti non sempre siano consumi gente che ha figli piccoli in casa in questo momento sa quanto sia complesso organizzare e si deve parlare cioè cercare di coniugare la voce in modo tale da non disturbare chi ti è vicino che lo smartphone sia un po' al centro delle nostre attività credo ne siamo tutti assolutamente d'accordo cioè ce l'abbiamo credo uno smartphone ce l'abbiamo tutti e può essere uno strumento complementare ogni tanto perdiamo l'audio un po' anche gli altri non so se c'è qualche problema di connettività eccetera non so se poi se è soltanto il microfono messo male ma ogni tanto perdiamo delle parti il più secondo me è stato chiaro si è capito perché poi viene recuperato ma alcuni in alcuni secondi li abbiamo persi allora provo a avvicinarmi il microfono della cuffia guardiamo se mi sentite meglio per ora va tutto bene mi sentite meglio così se perdiamo delle parti perfetto di avviso la domanda era che cosa si può fare con lo smartphone stavo dicendo lo smartphone è comunque tendenzialmente un oggetto che abbiamo tutti e sicuramente è complementare a qualsiasi tipo di attività che la facciamo in ufficio che la facciamo a caso che la facciamo presso i clienti in mobilità sicuramente lo smartphone ci appartiene allora andiamo a vedere per che cosa può essere utile lo smartphone soprattutto parlando di smart working noi ci siamo posti alcuni temi cioè più comunicazione più gestione più obiettivi che sono quei temi che il politecnico di evidenziato stefano ed evidenziava in questo momento soprattutto e chi vive lo smart working ha il bisogno di comunicare e ricevere informazioni dai propri lavoratori noi abbiamo fatto una cosa molto pratica per un grande produttore di mele del trentino senza fare nomi ma penso che sia facile da identificare il maggior produttore nazionale dove per lui è stato necessario comunicare sia con lo smart working delle persone che lavoravano a casa sia con le persone che lavoravano lontano dalle mure aziendali comunicare in modo centralizzato perché gestire la comunicazione o tramite le mail o tramite i gruppi di whatsapp o tramite gli sms o tramite carta diventava estremamente complesso allora abbiamo costruito per loro un pannello di controllo un'app aziendale che consentisse di comunicare informazioni di carattere generale questa settimana si fa tutti lo smart working per necessità non è un tema volontario ma non si fa per necessità nessuno può andare a lavorare sui campi vengono fatti dei corsi di formazione ci sono materiali a vostra disposizione che riguardano Stefano scusami ma ti perdiamo di nuovo va proprio completamente via l'audio se posso darti un consiglio o provi a chiudere qualche altra applicazione che gira sotto e che potrebbe darci regalare un po' più di banda alla alla connessione comunicazione carattere più generale o esclusivamente singoli chi è chiede ti perdiamo sì ti perdiamo ancora ti posso dare un mi sentite adesso sì però va completamente via l'audio per alcuni per alcuni secondi e quindi perdiamo parte del discorso se posso darti un consiglio sarebbe o da provare a chiudere delle applicazioni in modo da magari che qualcuna sta prendendo un po' troppa banda e quindi poi ti viene tagliato l'audio non ho nulla aperto sinceramente ok vediamo tutto il tuo schermo la parte di videocamera è spenta ma mi sentite meglio adesso? adesso sì però in questo momento va benissimo però dopo qualche secondo la ti perdiamo non so se chiuderemo provo a andare più piano che sono un po' che sono un po' provo Gabriele magari ad andare più piano magari sì l'altra opzione potrebbe essere utilizzare lo smartphone appunto vogliamo l'occasione per per usare il numero che ti abbiamo mandato via mail attraverso quello dovresti essere in grado di usare l'audio eventualmente adesso lì già conosce meglio il tecnicismo ma però se proviamo provo ad essere più lento e vediamo se la cosa proviamo ma secondo me è una questione di rete adesso non so se di banda non so se Stefano ha la stessa feedback ma direi di sì prova sì 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 purtroppo anch'io sentivo ti sentivo sparivi per dei secondi purtroppo non so se chiudendo Chrome ecco questo è uno affamato no questo è uno dei temi dei temi io sono in collina per cui la banda è quello che è però stamattina ad esempio andava benissimo magari ci sono dei momenti della giornata in cui è utilizzata di più e decade un po' cerco però di andare piano cerco di andare piano e di essere sintetico secondo me comunque le slide parlano abbastanza per cui c'è la comunicazione può essere una comunicazione come in questo momento di moduli di autodichiarazione rubrica aziendale ed è un qualche cosa che nello smart working è estremamente importante perché fa sentire le persone reciprocamente meno isolate l'azienda che può parlare di più verso le persone e le persone i lavoratori che possono parlare di più con l'azienda tenete conto che secondo me anche in casa farlo con uno smartphone è utile perché non sempre siamo seduti alla postazione giusta e se devo gestire delle urgenze averlo anche sullo smartphone può essere utile poi un'altra cosa utile che in questo momento mi viene richiesta non solamente per la parte di smart working ma anche soprattutto come riapertura delle aziende è la parte di gestione cioè il telefono può diventare il mio page aziendale dove io vado a dire che ho iniziato a lavorare ho finito di lavorare sono in smart working sono in malattia sono presente per cui la gestione è proprio del mio registro presenze della mia comunicazione con l'azienda e da questo punto di vista non è un solamente un tema di registro presenze ma è anche un tema di assegnazione degli obiettivi per cui tutti sperimentiamo che lo smart working è più efficace se ci vengono dati degli obiettivi e siamo programmati a raggiungere determinati obiettivi da questo punto di vista la compilazione di alcune informazioni sia in richiesta che da parte dell'azienda sono estremamente utili per cui io faccio la richiesta di avere determinato materiale e dall'azienda ricevo il consenso a poterlo fare e allo stesso tempo cerco di essere veloce per capire se la mia comunicazione la qualità della mia voce è migliore rispetto a prima se il fatto di avere degli obiettivi e la verifica di questi obiettivi in modalità puntuale fatta con lo smartphone può essere di aiuto per rendere tutti maggiormente produttivi per cui riassumendo più comunicazione più verifica più obiettivi più timesheet potrebbero essere un qualche cosa dove lo smartphone si dimostra estremamente utile da questo punto di vista poi il ritorno dell'investimento è altissimo perché a differenza di altre infrastrutture lo smartphone è un qualche cosa che appartiene a tutti per cui da questo punto di vista anche l'azienda non si deve dotare di cose complesse o cose costose o di ulteriori investimenti per metterne le condizioni i propri lavoratori di dare informazioni tenete conto che da questo punto di vista lo smart lo smart working si coniuga anche a momenti in cui ritorno in azienda perché credo che sempre di più in questi tempi a differenza di uno smart working che è stato pensato dall'azienda per essere una modalità di approccio lo smart working ad intermittenza riguarderà sempre di più il nostro rientro in azienda e sempre tramite smartphone io posso dichiarare che cosa faccio se ho sanificato un desk se ho ricevuto i miei articoli di protezione individuale se posso accedere a determinate aree se andrò a prenotare la mensa se quel giorno invece sarò a casa per cui non ci sarà bisogno di contarmi in mensa di modo che l'azienda possa gestire in real time lo switch fra smart working rientro in azienda ritorno a casa rientro in azienda turnazione sempre di più dovremo fare una turnazione diversificata credo che andranno evitati gli inserimenti di un gran numero di persone per cui lo scaglionamento di persone che stanno a lavorare a casa di persone che stanno a lavorare in azienda di persone che entrano al mattino a mezzamattina il pomeriggio la sera e via discorrendo ho cercato di essere veloce in modo da coniugare la mia mi sembra di capire cattiva qualità dell'audio non so se mi avete sentito e sono a disposizione per eventuali richieste grazie Giuseppe sì allora abbiamo avuto alcuni problemi all'inizio dell'audio però nella seconda parte effettivamente penso che abbiamo seguito tutti il discorso giusto per completezza magari l'hai citato l'abbiamo perso non lo so ti pongo una domanda io che non viene dalla chat ma è giusto per capire tu hai nominato questa applicazione queste diverse possibilità di applicazione di possibilità che ci dà lo strumento che abbiamo sempre in tasca abbiamo tutti in tasca almeno uno tra l'altro come può un'azienda che ha già delle soluzioni hardware tu prima citavi la mensa citavi e altro tu hai degli altri esempi per cui questo smartphone si possa integrare con soluzioni digitali o non in azienda o digitalizzabili eccetera nel senso di capire un po' come questo strumento possa integrarsi bene in azienda e non essere una cosa aggiuntiva ecco assolutamente sì tutto quello che noi abbiamo fatto parte da richieste molto molto precise ad esempio in azienda sicuramente una cosa utile adesso talvolta è avere uno smartphone con collegato un termometro per prendere la temperatura delle persone dato che però deve seguire determinate caratteristiche altrimenti non è compliance il dato deve essere anonimo e solamente qualora venga rilevata una temperatura positiva vengono richieste alcune informazioni e suggerito al lavoratore come superare questi passaggi poi per quanto riguarda ad esempio trasferimento fra un reparto un altro perché il trasferimento fra un reparto un altro ad esempio solamente per andare in magazzino per l'approvvigionamento è stato supplito con l'equivalente del panic button per la persona malata io un braccialetto al polso schiaccio e questo dà adito a una richiesta e ci sono delle persone all'interno dell'azienda che vanno a cercare di sopperire anziché fare code davanti alla sede di approvvigionamento portano loro i pezzi i ricambi che servono al lavoratore di modo che non siano i lavoratori a spostarsi all'interno dell'azienda ma siano alcune persone che sono anche vestite in un certo modo per dare a tutti la sicurezza di questo tipo di spostamento poi ci sono le aree comuni le aree comuni se io metto un beacon all'interno delle aree comuni e mi avvicino con lo smartphone ho immediatamente il numero delle persone che sono all'interno delle aree comuni poi l'ha fatto di avere per chi fa smart working le scrivanie condivise cioè io metto un beacon sulla scrivania e nel momento in cui una persona occupa quella scrivania so che quella persona sta lavorando in ufficio e non è a casa e viceversa poi ho bisogno adesso di verificare che alcune cose siano state sanificate per cui tramite lo smartphone io spontaneamente compilo di aver sanificato la mia scrivania compilo di aver sanificato il mio kit degli attrezzi compilo di aver sanificato il furgone che ho utilizzato per cui da questo punto di vista ci sono una serie di obblighi che il lavoratore in questo momento deve assolvere per se stesso e per i propri colleghi inoltre poi c'è tutta la parte di ingressi cioè l'ingresso verrà fatto come un tempo da un unico posto o da un'unica porta o verranno aperti possibilità di entrate da posizioni diverse come faccio questa verifica e nel momento in cui ho personale esterno che mi viene in azienda come lo faccio entrare sicuramente da questo punto di vista smartphone beacon bluetooth wearables hanno strumenti estremamente utili sia a casa che nei posti di lavoro e sempre di più secondo me lo smart working andrà a coniugarsi fra un'attività all'interno delle aziende e un'attività lontano dalle aziende per cui noi la cosa che ci è proprio stata già chiesta è la turnazione nella mensa l'utilizzo dei bagni e l'utilizzo delle docce che devono essere gestiti e personalmente questa è la mia idea io credo che con lo smartphone ce l'abbiamo tutti in tasca e da questo punto di vista lo smartphone eviterebbe di avere delle sovrapposizioni e soprattutto delle aggregazioni poi io personalmente questa è una mia personale idea credo che si potrebbero dare dei servizi estremamente utili indipendentemente da questo momento perché mettendo nelle condizioni le persone di avere informazioni in real time in tempo utile secondo me danno qualità del lavoro vi faccio un esempio noi ad esempio abbiamo fatto la soluzione di per la sicurezza delle persone di Vodafone nel momento in cui c'è stato l'allarme terremoto l'applicazione diceva lasciate tutti l'edificio nel momento in cui c'è un incendio l'applicazione ti dice andate tutti in quella direzione nel momento in cui succede qualche cosa io ho la possibilità di verificare dove ho più persone dove ho meno persone nel momento in cui o c'è un collega che non sta bene posso dire a quello più vicino di andarlo a aiutare perché c'è l'uomo caduto a terra è di cose che che danno più qualità al lavoratore stesso e più sicurezza all'azienda di raggiungere il lavoratore ce ne sono tante lo smartphone ripeto uno strumento come ha detto benissimo Stefano complementare a tanti strumenti che fanno cose completamente diverse e che assolvono a soluzioni più complete però avere uno smartphone in tasca secondo me visto che noi applichiamo proprio come metodologia e non per moda la parte agile è la prima cosa per fare il primo passo verso un'automazione secondo me che sia anche a misura d'uomo non è che lo smartphone sia solamente lo strumento alienabile o lo strumento il male che rappresenta il male dei nostri tempi io vorrei solamente ricordare che lo smartphone in questo momento ci piace o no e la cosa che sto dicendo è ahimè è assolutamente vera mentre Stefano parlava mi è arrivata la telefonata di whatsapp di mia mamma che è del 32 per cui ha 88 anni è in una struttura privata noi non la vediamo più da 30-40 giorni ci sono gli operatori sanitari che le passano il tablet tramite tablet io la posso salutare e la posso vedere per cui è sicuramente uno strumento che può portare dipendenza ma allo stesso tempo come tutte le cose se usate in modalità intelligente è sicuramente molto utile anche qui la firma fatta cioè che necessità ho io di dover andare a firmare al portalettere la multa cioè potrebbe essere fatta una firma a distanza per tante cose senza che ci sia contatto cioè ci sono cose molto molto utili sì chiaro ovviamente non è soltanto lo strumento dove gira Instagram questo era il messaggio chiarissimo e le possibilità sono tantissime ti faccio una domanda diretta da una da Lucia che vi chiede rispetto a una slide precedente come avete valutato l'incremento di reddittività del 15% cioè una domanda puntuale sui dati che hai mostrato forse nella slide prima qualcosa del genere beh sono dati che non ho dato io sono dati che vengono direttamente dall'osservatorio mobile del Politecnico di Milano che se un'attività è gestita per obiettivi ha un aumento di produttività del 15% ma al di là del Politecnico di Milano io conosco molto bene ad esempio persone che stanno facendo smart working da un paio d'anni ad esempio noi lavoriamo tanto per Vodafone i colleghi di Vodafone abbiamo delle soluzioni con loro e lo smart working a detta di tutti comporta se gestito bene una più alta qualità e produttività del lavoro deve essere gestito però se non è gestito piaccia o non piaccia e lo stiamo sperimentando tutti le distrazioni in casa sono frequenti l'ambiente di lavoro non è lo stesso adesso magari stiamo vivendo lo smart working come alienazione ma se invece gestito mi prendo i miei spazi e mi organizzo in un certo modo sicuramente solamente eliminare il tempo del viaggio eliminare il tempo dell'inquinamento essere produttivi subito aiuta tanto per cui da questo punto di vista solamente i momenti di comunicazione voi provate a pensare quante mail avete se io ho un sistema di comunicazione ufficiale gestito centralizzato questo mi risparmia il tempo di letture di cose inutili però le comunicazioni vanno gestite aziendalmente centralmente altrimenti rischiano di essere anche non compliance con la parte GDPR o alcuni strumenti che non sono strumenti aziendali per cui vanno fatti in un certo modo però assolutamente sì allora scusami ti ho interrotto poi noi abbiamo l'esempio concreto di chi ad esempio utilizza i nostri timesheet da tanto tempo fatto su telefono cellulare pur essendo grandi organizzazioni di consultante però da questo punto di vista la gestione in real time da qualsiasi luogo in qualsiasi momento aiuta veramente a essere puntuali sulle urgenze e a farlo in modo facile pratico e veloce il timesheet di solito più efficace per alcuni tipi di attività dove io devo anche rendi contare quanto tempo sono stato a telefono cosa ho fatto è molto utile se fatto direttamente dallo smartphone certo grazie allora vi faccio una domanda faccio una domanda a entrambi i relatori una domanda che ha posto anche poco fa Riccardo ma pongo solo ora la luce delle vostre di entrambe le esposizioni diciamo che in generale noi adesso come in realtà stiamo applicando delle innovazioni delle cambiamenti che sono smart working delle novità quanto ritenete che queste novità siano funzionali al momento e quindi poi verranno dimenticate quanto di questo ci resterà alla fine di questa pandemia che speriamo tutto finisca il prima possibile quanto di questo di queste attività che noi stiamo svolgendo ora può insegnarci qualcosa essere un bagaglio utile per il dopo pandemia vado io vai tu Giuseppe seguiamo l'ordine lascio grazie va bene vado io allora secondo me in questa in questa esperienza pur forzata noi ci portiamo a casa dei punti positivi molto interessanti il primo punto è che volenti o nolenti abbiamo fatto uno stress test dell'infrastruttura internet che sotto sotto ha retto quindi più o meno tutti in questo istante dall'aspetto lavorativo quindi ufficiale enterprise della videocomunicazione del corso a e sono d'accordo con Giuseppe perché ho fatto la stessa cosa le comunicazioni con i nonni e i parenti via WebEx o Zoom o chi più ne ha più ne metta di fatto ci hanno fatto testare e verificare che l'infrastruttura funziona e per fortuna ha funzionato ma deve essere potenziata quindi penso alle scuole ci sono delle zone ancora completamente sguarnite dalla banda larga quindi questo sarebbe stato il momento di decidere una volta per tutte che l'infrastruttura ha la sua importanza quindi dubbi o perplessità o tentenamenti del passato andrebbero accantonati per sempre la diciamo scolarizzazione informatica andrebbe aumentata ci sono ancora delle sacche di diciamo povertà intellettivo strutturale penso per esempio a alcuni nuclei di estracomunitari che non hanno probabilmente alcuno strumento e non lo sanno utilizzare ripeto parlo per esperienza vissuta perché mia moglie insegna le scuole elementari e vi posso dire che su 20 ragazzini di una classe 12 sono coinvolgibili 8 si fa fatica 2 sono irraggiungibili da 2 mesi questa parte quindi questo è un punto su cui noi dovremmo pensare a livello di sistema paese lato azienda come vi dicevo prima a me piacerebbe che come sempre ci capita in questi momenti di difficoltà ci portassimo a casa quello che abbiamo sperimentato quindi è stato così complicato lavorare da casa certamente sì perché ha introdotto delle cose diverse quindi come dice Giuseppe a casa l'ambiente è diverso sono distratto ho la moglie che sta facendo tutt'altro ho i figli ho il cane in giardino quindi faccio fatica nella continuità che darei in ufficio ma se ingaggiato in termini di obiettivi e di operatività diverse potrei anche rendere in maniera diversa e quindi perché non lavorare in quest'ottica secondo me tutti quanti noi siamo in grado di poter lavorare in questo modo ripeto molti di noi sono bravissimi con il loro smartphone che ripeto e concordo pienamente con Giuseppe è uno strumento da non denigrare ma da utilizzare e quindi noi dovremmo fare l'unione l'unione fisico mental virtuale delle nostre le nostre due identità quella lavorativa magari un po' stanca da un lato e quella creativa sullo smartphone per conto nostro in Instagram dall'altra parte per farlo diventare un tutt'uno quindi essere un uno pensante umano lavorativo ludico con lo strumento in mano io personalmente credo che cioè avrei preferito come tutti immagino che questo momento non ci fosse stato e non ci avesse dovuto insegnare nulla ma che lo smart working o alcune cose fossero avvenute per spontaneamente però dal mio punto di vista credo che quello che stiamo veramente imparando è che cioè innanzitutto fidarci di più degli altri è importante per cui lo smart working secondo me è costruttivo se mettiamo nelle condizioni gli altri di avere degli obiettivi e mi devo preoccupare che questi obiettivi siano stati raggiunti soprattutto per quelle attività che possono essere fatte perché se devo essere davanti fisicamente a una macchina utensile per quanto ipoteggi lo smart working ci sono alcune attività che necessitano di una presenza fisica però allo stesso modo io credo che tante attività all'interno delle aziende potrebbero essere bilanciate e gestite meglio parlo ad esempio di turnazione anche la turnazione potrebbe essere un qualche cosa che se gestite in modalità più smart più veloce più può essere molto utile e soprattutto può far rientrare le aziende subito al lavoro per cui da questo punto di vista secondo me un nuovo modello di organizzazione è abbastanza importante credo che sia sotto gli occhi di tutti che più culturalmente comunque sia attrezzati e organizzati a gestire il cambiamento e più prima resilienza era una parola di moda adesso credo che resilienza sia una parola necessaria per cui il fatto di sfruttare le cose che abbiamo per ottenere dei risultati concreti poi io vengo preso in giro perché dico che a me piace l'approccio agile però l'approccio agile vuol dire provo una cosa la corrego la riprovo la corrego la penso la riprovo la corrego la penso la riprovo la corrego soprattutto in un'epoca dove non hai alcune certezze alcune cose le devi verificare nel breve tempo e non puoi eh fare più dei piani così lunghi così eh solidi come potevano essere in passato perché anche chi l'abbiamo visto anche a livello politico chi non è pronto al cambiamento secondo me eh sta soffrendo di più rispetto ad altre organizzazioni per cui c'è un livello culturale in cui alcuni strumenti vengono dati a tutti secondo me è abbastanza importante visto che ho parlato di smartphone parlo ad esempio di quelli che non hanno un laptop e non se lo sono potuti portare a casa ma hanno dovuto prendere fisicamente una postazione caricarsela in macchina e portarsela a casa cioè fisicamente quelli che non hanno imparato a gestire il cartaccio in un certo modo la formazione in un certo modo io credo che la formazione sia lo diceva Stefano prima tutti stiamo pensando che più sanità più scuola più cultura più condivisione eh sia un qualche una direzione su cui dobbiamo andare tutti e a tutti sta facendo fare un salto di qualità prima conoscere Teams eravamo in quattro adesso credo o altri strumenti quelli di Google o cioè ho fatto un nome per dire un nome diffuso adesso cominciamo a conoscerlo tutti di più l'abbiamo valutato ne conosciamo utilità e non utilità rimango del parere però che lo smart lo smart working è utilissimo ma sia ancora più utile se abbiamo la possibilità di vederci ogni tanto io credo che la chiave di lettura del futuro sia ad intervalli corretti non solamente smart o non solamente smart working va bilanciato cioè non è che un manutentore deve passare necessariamente in officina prendere le cose timbrare il cartellino presenze poi andare a fare l'intervento e dire che le ha fatte cioè se passa una volta la settimana e ha tutto sul proprio furgone e mi dice che cosa ha fatto da un laptop da un telefono cellulare o meno comunica voce credo che cioè io penso che l'Italia stia dimostrando che la maggior parte delle persone sono brave persone questo è quello assolutamente sì assolutamente sì sono proprio d'accordo sì perfetto sono grazie per il feedback scusate mi stavo leggendo anche alcuni commenti in chat chi vi riporto avete accesso anche voi alla chat ovviamente ma giusto per rendere tutti i partecipi o chi vedrà questa registrazione poi online i complimenti delle persone per la per la chiarezza dei contenuti e per il taglio pratico degli interventi quindi vi riporto i loro commenti visto che siamo sull'ora e mezza io concluderei qui se non ci sono delle delle richieste particolari che non che non giungeranno nei prossimi secondi se ci possono delle richieste se volete aggiungere qualcosa abbiamo ancora tempo altrimenti possiamo concludere qui ne approfitto per augurare a tutti i partecipanti ai relatori a tutti quelli che sono stati con noi gli auguri di buona Pasqua speriamo di poterci vedere presto non soltanto attraverso Whatsapp o Teams che sono stati più volte citati che in questo momento ci stanno dando una grande mano a superare il momento e speriamo una Pasqua comunque diversa ma comunque piacevole per tutti so se volete aggiungere qualcosa a voi sono assolutamente d'accordo con le ultime parole di Giuseppe mi trovo perfettamente d'accordo abbiamo dimostrato di essere una nazione fatta di persone in gamba che quando c'è da far qualcosa di creare inventare adattarsi siamo bravissimi portiamoci a casa quel qualcosa in più quindi benvenga le tecnologie benvenga lo smart working ma quel momento in cui ci confrontiamo vis a vis con i nostri sentimenti i nostri sorrisi è sempre comunque importante ringrazio tutti della partecipazione ringrazio voi di avermi interpellato mi è fatto molto piacere essere qua con voi in questa esperienza peraltro abbastanza singolare anche per me vedremo di trovarci presto magari di persona grazie ancora a tutti e auguri di buona Pasqua io mi associo agli auguri di buona Pasqua ringrazio tutti spero che la qualità dell'audio comunque sia arrivata ho cercato di essere veloce e che rimango del del parere che tutti insieme ce la faremo a superare questo momento così complesso perfetto grazie Giuseppe grazie Stefano siamo penso tutti d'accordo che in questo momento dobbiamo fare delle necessità virtù e quindi applicare l'innovazione e innovarci dove possibile dove riusciamo dove in questo momento abbiamo bisogno lato nostro il CSMT è ovviamente a disposizione delle aziende dunque voglio poi contattarci per sviluppare un po' gli argomenti trattati oggi e in generale gli argomenti di innovazione aziendale sviluppo digitale e project funding quindi noi siamo a vostra disposizione vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua grazie per essere stati con noi e controllate il sito di Officine Liberty ci saranno altri webinar nelle prossime settimane con argomenti diversi spero sempre interessanti buona Pasqua arrivederci arrivederci a tutti arrivederci buona Pasqua grazie ciao ciao Stefano ciao Gabriele ciao buona buona